grazie, grazie mille, grazie ancora presidente per l'invito volevo vedere se faceva discriminazione di genere grazie, non è partito neanche a me no, ma glielo prendo io ah, me lo prendo si sperava dirò, diciamo, delle cose a fronte dei temi che sicuramente sono già stati anche in parte accennati dai relatori precedenti, sono state dette un sacco di cose interessanti e importanti, ci teniamo a dare anche noi, diciamo, questo contributo il contributo di Osservatorio Valore Sport avremmo potuto chiamarlo Osservatorio Valore e Movimento, Attività Fisica insomma, il senso è ampio è una piattaforma che The European House Ambrosetti, la società per cui lavoro, una società di consulenza ha deciso di avviare nel 2022 l'anno scorso, quindi un anno e mezzo più o meno che lavoriamo, con l'idea di mettere insieme un po' di pensiero, fare una piattaforma di dialogo tra diversi settori dello sport, dell'economia, della società, del governo, della politica gli stakeholder in senso ampio con l'obiettivo che ci muove un po' che è quello di contribuire con analisi fattuali, dando un contributo in termini di misurazione dell'impatto, dimostrazione del valore generato dall'attività sportiva dalla cultura, del movimento con analisi che sono proprio un po' del nostro lavoro che ha un taglio prettamente economico per creare maggior consapevolezza per dare anche dei suggerimenti di policy che poi i policy maker dovranno eventualmente prendere in considerazione lo facciamo attraverso un'organizzazione fatta da un gruppo di partner che sono coinvolti direttamente, come vedete abbiamo sia le grandi istituzioni del mondo sportivo nazionale, che soggetti pubblici che soggetti privati, quindi è un po' una coalizione in senso ampio lavoriamo su tre macro temi oggi evidentemente parleremo di quello socio sanitario ma ci sono anche i temi di impatto economico per cui studiamo il valore che il settore ha in termini diretti e indiretti di attivazione delle filiere dal punto di vista economico, occupazionale l'impatto che gli investimenti hanno in infrastrutture sportive sia investimenti che hanno un impatto economico ma anche sociale e il tema dell'accessibilità quindi quali sono i fattori abilitanti quali sono gli ostacoli che all'interno del paese in modo disomogeneo favoriscono o sfavoriscono incentivano o disincentivano l'attività fisica quindi anche su questo abbiamo una serie di analisi ma oggi vi presento i dati sul tema socio sanitario che tra l'altro professor Rasi io sono solo onorato se me li saccheggia e ci sono anche dati più aggiornati oggi quindi mi saccheggi pure con piacere parto da temi che sono ovviamente super noti quindi l'aumento della speranza di vita nel paese è un fatto molto positivo ma c'è una componente di speranza di vita che è in non buona salute e quella lì aumenta ed è sempre proporzionalmente maggiore rispetto all'attività alla durata totale della speranza di vita e quindi quello crea un problema un problema di benessere sociale un problema di costi come vediamo tra un attimo perché? perché la popolazione invecchia lo sappiamo perché le patologie croniche aumentano la propria incidenza nella popolazione gli stili di vita è noto sono uno dei fattori di rischio principali uno dei fattori determinanti principalmente la salute e il benessere dell'individuo l'OMS dice il 50% all'interno ovviamente degli stili di vita ci sono alcuni componenti tra cui l'attività fisica e di converso la sedentarietà quali sono è già stato detto anche questo le patologie per le quali l'attività fisica aiuta a ridurre il rischio di comparsa e di peggioramento sono il diabete sono le cardiovascolari sono alcuni tumori sono le neurodegenerative sono le malattie psicologiche sicuramente anche le respiratorie o le osse articolari su quelle però che vedete in blu abbiamo diciamo lavorato nella costruzione di un modello di impatto che tra poco vi faccio vedere se questi sono i punti di partenza quindi è evidente il potere la forza il valore che l'attività fisica può avere per ridurre queste patologie invece l'Italia è sedentaria lo sappiamo questo è il dato dell'Ox è 44% quarto peggior paese è già stato detto i bambini come la dottoressa anticipava hanno ancora un dato peggiore se ci compariamo a livello internazionale quindi l'Italia è il paese più sedentario dal punto di vista dell'attività fisica adeguata fatta dai bambini quindi punti di partenza sicuramente sfavorevoli con una diversificazione all'interno della popolazione nazionale per fattori socio-demografici quindi mediamente fa meno attività fisica chi è economicamente meno abbiente chi ha un livello di studio inferiore gli anziani fanno meno attività fisica dei giovani le donne fanno un po' meno attività fisica degli uomini i residenti al sud rispetto ai residenti al nord quindi ci sono divarie a livello nazionale che si configurano con le note componenti socio-demografiche del paese ma tornando all'impatto come abbiamo misurato l'impatto dell'attività fisica o meglio della inattività fisica cercando di prendere a livello scientifico le evidenze migliori o quelle che pensiamo siano quelle più solide quindi il global border of disease che ci fornisce un dato della misura degli anni persi anni di vita in buona salute persi a causa di diverse fattori di rischio vedete il confronto tra il 1990 e il 2019 quindi in 40 anni quanti anni di vita persa all'anno le popolazioni italiane perde appunto per le principali fattori di rischio l'attività fisica è l'unico tra i primi 10 che è peggiorato negli ultimi 40 anni questo è un indice anche questo importante vedete il fumo chiaramente è ancora il primo fattore di rischio ma il numero di anni persi in buona salute al 2019 è calato del 23% rispetto a quelli del 1990 così come l'abuso di alcol o temi di dieta e alimentare invece la scarsa attività fisica ci dice il global border of disease causa ogni anno per l'Italia 271 mila anni di vita persi suddivisi sulle tre principali patologie di nuovo metaboliche cardiovascolari i tumori rispetto a cui si misurano questi dati 9% delle malattie cardiovascolari possono essere causate sono causate dalla sedentarietà l'11% del diabete il 16% dei tumori principali abbiamo aggiunto nel modello presentato lo scorso anno al nostro evento diciamo di presentazione di osservatorio valori sport anche le malattie psicologiche e le malattie neurodegenerative andando a prendere anche qui da letteratura scientifica i dati che ci dimostrano quanta parte di queste può essere direttamente messa in relazione causa-effetto con la sedentarietà avendo quindi i dati di prevalenza e diciamo causalità dell'attività fisica sulla insorgenza di patologie se ci aggiungiamo i costi e qui sono i costi sanitari sia diretti sanitari quindi e indiretti welfare produttività costi sociali che sono prima stati citati per queste cinque categorie di patologie allora è facile aritmeticamente dire che almeno e dico almeno perché pensiamo sia un dato prudente che non include per esempio altre patologie di cui vi ho letto prima che non ci sono ancora dati sufficienti magari per mettere nel modello impatta almeno 4,5 miliardi di euro l'anno sulla spesa sanitaria sulla spesa diciamo sanitaria totale dopodiché se andiamo a prendere la spesa sanitaria pubblica per esempio abbiamo un 2.2% di incidenza è già stato detto però quello che vogliamo sottolineare è questo circolo virtuoso quindi la possibilità che maggiori investimenti politiche strumenti come quello della prescrizione di cui discutiamo oggi per la pratica sportiva possano attivare un guadagno di salute per la popolazione italiana e una riduzione di costi sociosanitari pubblici e privati costi evitati io direi più che costi risparmiati perché poi non è un tanto un tema di risparmio ma di liberare risorse ultimo step del circolo virtuoso liberare risorse da investire in prevenzione in nuovi investimenti anche fosse solo all'interno del capitolo di spesa sanitaria perché poi sappiamo a livello di ragioneria generale dello Stato ci sono abbastanza dei vincoli non è facile magari come anche il ministro forse prima suggeriva poter pensare un giorno di poter reinvestire nello sport risorse che vengono evitate e risparmiate sempre tra virgolette in altri campi ma solo anche poterle reinvestire in prevenzione accelererebbe questo circolo virtuoso e creerebbe un moltiplicatore di ancora maggiore impatto osservatorio valore sport ha una visione guardi che le resta un minuto due no uno perché uno l'ho tenuto io poi è partito dopo faccio in uno osservatorio valore sport 2050 Italia in movimento è la visione che proponiamo è una visione a lungo termine ma sulla quale occorre iniziare a lavorare sicuramente da subito e quel dato che abbiamo visto prima il 4 miliardi e mezzo lo abbiamo proiettato al 2050 con le note variabili demografiche le note variabili di cronicità quindi se non facciamo nulla se rimane 44% la quota di persone inattive sedentarie quel 4.5 diventano 5.7 invece se progressivamente con questi strumenti di oggi e con altri abbiamo insomma avanzato delle proposte stiamo lavorando anche col ministro con delle proposte possiamo andare a ridurre l'impatto socio-sanitario della sedentarietà con un obiettivo che ci poniamo il 2050 ambizioso sicuramente ma realizzabile di dimezzare la quota attuale di sedentari significherebbe arrivare semplicemente tra virgolette nella media dei principali 5 top country 5 migliori paesi a livello oxe in termini di sedentarietà avremmo un tesoretto direi tesorone di 56 miliardi di euro accumulati in 25 anni che ci separano dal 2050 che caspita potrebbero essere investiti dove investimento significa capitalizzare i costi quindi è chiaro che i costi vanno anticipati ma in logica di investimento quella che nella sanità magari è anche un po' mancata negli ultimi anni si potrebbe effettivamente poi raggiungere questo tipo di risultati ultimissima cosa mi fa piacere il ministro l'ha detto il ministro era nostro partner come istituto credito sportivo quando abbiamo avviato questo lavoro e pensiamo in qualche modo di avere contribuito a far passare questo tema dello sport delle policy dello sport al centro di una visione complessiva che coinvolge tanti ministeri quindi quello che noi abbiamo chiamato sport in all policies come slogan e come ambizione diciamo grazie grazie mille direttore grazie a tutti grazie a tutti